Bruno! Questa volta è finita davvero! Adesso sì! Dobbiamo fare qualcosa di più oggi anche, abbiamo avuto sia nel primo che nel secondo set, le nostre opportunità siamo stati avanti nei due set, il terzo abbiamo ripreso alla grande, il quarto loro hanno spinto tanto in battuta, lì all'inizio con Keita sono sfuggiti e non siamo riusciti a battere come stavamo battendo prima. È rimpianto una stagione come abbiamo già detto prima, con più bassi che alti, mi spiace finire così, però sono sicuro che la squadra non ha mai mollato, forse non è riuscita a trovare il miglior gioco, però ha sempre lavorato, si è sempre dedicata al massimo e questo fa onore, almeno questo. Adesso è finita, però come ho detto già tante volte, continuerò da tifoso e seguirò a sempre i modi. Un successo domattina per te! Cosa riparte? Che capitolo è quello che inizia domani? Prima di tutto adesso è qualche giorno per riposare, dopo sicuramente è un capitolo da prima per preparare al meglio queste ultime Olimpiadi anche, saranno tre mesi di fuoco, però cercare di mettere la testa nei migliori dei modi possibili per affrontare questa estate bene, sia a livello fisico che a livello mentale, perché sarà durissima e dopo vedremo cosa succederà, però in questo momento è pensare proprio al presente che la Nazionale chiama già. Buona sorte! Tanto personalmente abbiamo visto una partita molto difficile da parte tua. Molto difficile sì, sono contento però che sia entrato Roberto che ha dato il suo, è riuscito a prendere i minuti in campo, ha giocato molto bene, sono contento. Io potevo fare meglio, potevo entrare meglio in partita, però è una partita di una lunga serie di quest'anno, quindi spiace che sia andata così, anche per Bruno che è l'ultima insieme a noi, però è così, adesso bisogna resettare questo anno difficile, però prendere le cose positive, perché ci sono state molte cose positive e partire io personalmente per la Nazionale e poi per l'anno prossimo. Difficile forse adesso fare un bilancio della stagione, se quello della stagione scorsa era un bilancio ovviamente positivo, quest'anno vi è rimasto poco in mano? Sì, alla fine sì, è rimasto, c'è stato un periodo di alti e bassi che non doveva capitare, che ci ha poi un po' sotterrato, però le cose positive ci sono state, le partite buone le abbiamo fatte e il carattere l'abbiamo tirato fuori, sia alla fine perché anche con il cambio allenatore ci siamo dati una svegliata e abbiamo iniziato a giocare, anche contro Trento questo è stata una serie abbastanza combattuta, ecco anche se è finita 3-0, quindi cose belle ce ne sono state, dobbiamo prenderle per l'anno prossimo.